Questo non è un MLEF. La Russia ha il diritto di usare l'arma nucleare se lo riterrà necessario, lo ha dichiarato l'ex presidente e primo ministro russo Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia. E intanto è l'ultimo giorno per il referendum di annessione alla Federazione Russa dei Territori Occupati di Donetsk, Kherson e Zaporizhia. I numeri dicono che oltre il 50% della popolazione locale ha votato. C'è attesa per il discorso del presidente russo Vladimir Putin, previsto per il 30 settembre. Potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'annessione dei territori occupati.